Amici di Frontiere Proibite, benvenuti a questo nostro nuovo incontro, a questo nuovo incontro con Oltre Frontiera, la rubrica che si occupa di rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità e che riprende dopo la pausa estiva. Pausa estiva che devo dire con piacere non ci ha fatto mancare domande, non ci ha fatto mancare messaggi e neanche mail arrivate all'indirizzo ufficiale del canale che è frontiereproibite.gmail.com, quindi un invito intanto ad iscrivervi al canale, a lasciare i vostri commenti dai quali prenderemo anche delle domande, delle curiosità alle quali rispondere, i vostri like se vi fa piacere e magari cliccate sulla campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati sulle novità di Frontiere Proibite, novità che vi assicuro saranno tante, davvero tante a partire da metà settembre. Iniziamo subito, io sono Roberto Lapaglia, vi saluto, vi saluta il giornale dei misteri e iniziamo subito con le varie domande che riguardano questo nostro diciassettesimo incontro. La prima domanda ci arriva da Francesco, il quale ci scrive da Modena. Francesco scrive sono un appassionato di misteri e non mi perdo un episodio di Frontiere Proibite. Grazie Francesco, un saluto ovviamente a te e un saluto a Modena. Volevo chiedervi, ma Re Artù è un mito oppure è esistito realmente? Beh, domanda interessante caro Francesco. Devi sapere che tra il VI e l'VIII secolo d.C. iniziano a diffondersi soprattutto nel Galles delle particolari storie, le quali poi riunite una volta tutte quante insieme andarono a formare quello che oggi viene conosciuto come il ciclo Bretone. Il protagonista di questo ciclo era appunto Artù. Il ciclo Bretone inizialmente fu soltanto una narrazione orale e soltanto intorno al X secolo iniziò a prendere la forma che oggi noi conosciamo. Questo avvenne intorno al 1450. Il nome Artù molto probabilmente deriva dal celtico Art, usato per indicare la roccia, mentre una diversa tradizione fa risalire l'origine al termine latino Artorius, forse per suggerire che si trattava di un rappresentante dell'impero romano. Il leggendario sovrano sarebbe vissuto tra il V e il VI secolo, durante l'ultimo periodo dell'occupazione romana della Britannia, ma non tutti sono d'accordo su queste ipotesi. Infine, per concludere alla domanda del nostro amico Francesco, ricordiamo che il ricercatore Goffrey Hash identifica il re Artù con la figura di Riotamus, un re della Britannia vissuto intorno al V secolo, che venne poi sconfitto in seguito nel 470 d.C. e si ritirò in un paese della Burgundia che, guarda caso, si chiamava appunto Avalon. In ultimo, l'ipotesi di Lepoer Trench, il quale praticamente parla di Artù non come di un singolo personaggio, bensì di una stirpe di sovrani chiamati appunto Artù, dei sacerdoti che erano anche custodi del segreto della Grande Madre. E con questo spero di aver in qualche modo esaudito la tua curiosità e andiamo oltre per parlare di un argomento abbastanza particolare, il doppelganger. Tutti noi, sembra, abbiamo un nostro doppio in qualche parte del mondo. Difficilmente lo incontreremo, eppure si dice che esista. In alcuni casi, addirittura, non soltanto c'è stato forse questo incontro, ma è avvenuto in maniera del tutto tragica. Doppelganger, grazie alla domanda che ci viene da Mirella da Siracusa. E continuiamo con le vostre richieste del mistero, richieste indirizzate al canale Frontiere Proibite alla mail frontiereproibite.gmail.com Stiamo per parlare di doppelganger, il doppio di ciascuno di noi che sembra esista da qualche parte su questo pianeta. Ad aiutarci ad iniziare questo nuovo cammino all'interno di questo strano mistero è Mirella da Siracusa. Ciao Mirella. Mirella ci scrive, seguo con molto interesse le vostre puntate. In particolare mi ha molto colpito quella durante la quale si parlava della scomparsa di Charles Ashmore. Come ricordate parlavamo di Charles Ashmore in riferimento ad un antico caso di abduction che potrebbe essere accaduto intorno al 1800, fine 1800. Tempo fa ho letto da qualche parte che alcune volte le storie di persone scomparse hanno a che fare con la teoria del doppelganger, del doppio, il doppio viandante. Voi cosa ne pensate? La teoria del doppio viandante, il doppelganger appunto, sostiene che ad ogni persona presente su questo pianeta corrisponda un suo doppio, esattamente uguale, con il quale potremmo venire in contatto ma soltanto in presenza di particolari eventi. Si tratterebbe quindi di un vero e proprio duplicato di noi stessi ma ci sono stati alcuni ricercatori, alcuni studiosi, alcuni investigatori addirittura che hanno pensato di adattare questa teoria del doppelganger ad alcuni casi di sparizione ed ecco il legame con il caso di Charles Ashmore. Per capire come si è andato avanti, come si è andato a procedere in questo particolare tipo di indagini vi debbo raccontare una storia abbastanza particolare. Francia, aprile del 1922 Pauline Picard, una bambina di due anni, sparisce di lei non si hanno più notizie il fatto scuote la comunità di Gossaludu in Francia dove la ragazza viveva in una fattoria insieme ai genitori e ai fratelli le autorità iniziano a setacciare la zona ma di Pauline non c'è nessuna traccia a questo punto delle cose sembra affacciarsi l'idea e diventare sempre più consistente il sospetto che la bambina sia stata in effetti rapita i giorni però passano, l'apprensione aumenta sempre di più giustamente direi ma dopo qualche settimana però la situazione sembra giungere ad una svolta a Cherbourg, una località distante più di 300 miglia dalla casa della famiglia Picard viene ritrovata una bambina mentre sta vagando da sola per la strada una bambina che assomiglia molto a Pauline gli inquirenti avvertono quindi i familiari i quali dopo aver visionato una fotografia riconoscono la loro figlia scomparsa tutti si dirigono così verso Cherbourg e giunti sul posto si accorgono in effetti che la bambina ha un comportamento abbastanza particolare non parla, non sembra neanche addirittura riconoscere i suoi genitori forse sarà stato lo shock, pensano, lo shock dovuto a quella tragica e violenta esperienza rimane comunque un dubbio e in ogni caso i genitori decidono di fare ritorno a casa la bambina viene riconosciuta anche da alcuni vicini tutti quindi tirano un sospiro di sollievo la storia sembra essere giunta ad un lieto fine ma passate poche settimane una sconvolgente scoperta sembra ancora una volta cambiare le carte in tavola e rendere lo scenario addirittura ancora più misterioso è il 26 maggio quando un contadino trova a circa 800 metri dalla fattoria dei Picard i resti di un corpo è quasi impossibile riconoscere di chi si tratti dato che è mutilato ma accanto vengono anche ritrovati dei vestiti vestiti che i genitori riconoscono come quelli indossati dalla figlia al momento della sparizione se quel corpo senza vita apparteneva effettivamente a Pauline Picard chi era allora la bambina che già da qualche settimana viveva insieme ai suoi genitori l'autopsia purtroppo non riuscirà a dare una risposta convincente ed esauriente a questo tragico quesito la bambina rinvenuta a Cesburgo verrà mandata in un orfanotrofio dove resterà per qualche mese prima di morire a causa del morbillo la sua identità non è mai stata scoperta si trattava effettivamente di un doppio? rimane questo quesito ancora senza una risposta mentre noi invece partiamo ancora una volta per andare questa volta in Sicilia e rispondere ad una nuova domanda la domanda che ci arriva da Giovanna la quale ci scrive da Palermo come dicevo prima siamo arrivati in Sicilia esattamente a Palermo per rispondere alla domanda di Giovanna che intanto saluto ciao Giovanna Giovanna scrive buonasera scrivo da Palermo sono un'appassionata di misteri soprattutto di quelli siciliani ed ho sempre sentito parlare nella mia città dei diavoli della Zisa mi sapreste dire qualcosa di più? beh in effetti Giovanna questo mistero sul quale sei a caccia di ulteriori notizie è davvero molto interessante molto affascinante direi tra le altre cose sicuramente ti riferisci al famoso palazzo della Zisa a Palermo e al racconto relativo al misterioso tesoro che custodirebbe appunto questa costruzione il termine deriva dall'arabo al-Aziza che significa la splendida e la sua costruzione risalirebbe al 1175 attualmente la Zisa ospita il museo d'arte islamica ma la curiosità alla quale si riferisce Giovanna è di tutt'altra natura ed è legata al mondo del mistero e del mito il castello della Zisa che sorgeva fuori dalle mura della città era da tutti considerato come un vero e proprio paradiso un vero e proprio giardino terrestre ma c'erano anche i diavoli però attenzione questi diavoli sono da intendersi non tanto nel senso sinistro del termine quanto come custodi infatti all'interno della Zisa sono dipinte delle figure mitologiche chiamate appunto diavoli e disposte in maniera tale questa appunto è la parte interessante e la parte intrigante del mistero disposti in maniera tale tale che è impossibile contarne il numero chi li guarda il 25 marzo giorno della festa dell'annunziata ha infatti la sensazione che i diavoli si muovano e se prova a contarli non vi riesce nessuno ha mai saputo dire quanti siano con esattezza e questa difficoltà ha un suo scopo ben preciso la leggenda infatti racconta che all'interno del palazzo della Zisa sia custodito il tesoro dell'imperatore un immenso tesoro costituito da oro argento pietre preziose diamanti e soprattutto tante 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 monete d'oro per proteggere questo favoloso tesoro vennero appunto evocati dei guardiani i diavoli della Zisa e il tutto venne posto sotto un incantesimo i diavoli della Zisa che vennero evocati come dicevo allo scopo di proteggere il tesoro dell'imperatore riveleranno il luogo nel quale è nascosto questo soltanto a chi riuscirà a contarne il numero da quanto si racconta ad oggi nessuno è ancora riuscito in questa impresa e con questo spero di aver risposto in maniera esaustiva alla domanda della nostra amica palermitana e noi ritorniamo in Alto Italia o comunque ritorniamo in Toscana torniamo in Toscana e ci rechiamo a Montecatini Terme perché Massimo da Montecatini Terme appunto ci chiede qualcosa che riguarda un tema che come sapete è particolarmente caro a frontiere proibite ovvero ufologia ultimo quesito per questo diciassettesimo incontro con Oltre Frontiera quesito che ci arriva da Montecatini Terme ed è a firma di Massimo ciao Massimo Massimo scrive mi interesso di ufologia e credo nella presenza degli alieni cerco di tenermi sempre aggiornato a volte leggo notizie che mettono in relazione gli ufo con i vulcani mi dite qualcosa di più in effetti esiste questo o comunque si cerca di dimostrare in qualche modo questo tipo di correlazione esistono vari supporti fotografici ma esistono anche vari video video tra l'altro ripresi anche da telecamere a circuito chiuso ma cerchiamo di capirlo meglio perché è un argomento davvero abbastanza particolare e visto anche il tema abbastanza scottante scottante proprio in tutti i sensi visto che parliamo di vulcani si è spesso parlato di una correlazione tra il fenomeno ufo e i vulcani e quindi le eruzioni questi accostamenti in effetti potrebbero apparire azzardati ma forse non lo sono del tutto alcuni ricercatori tendono a spiegare il fenomeno con la teoria dei plasmoidi teoria che appunto spiegherebbe gli avvistamenti di strane luci vicino ai vulcani in particolare durante le eruzioni il fenomeno dell'espulsione plasmoide dei vulcani viene studiato già dal 1956 e indica in maniera generica entità magnetiche di plasma autorigenerante quindi di energia libera che assume dimensioni e colori diversi da notare che il termine plasmoide è entrato da tempo a far parte del lessico ufologico e questo perché esprime due immagini che ad una osservazione da lunga distanza possono apparire simili in tal senso abbiamo quindi il plasmoide ovvero una struttura notata proprio vicino o intorno ai vulcani o comunque intorno o vicino a fonti di energia di contro abbiamo anche un campo magnetico visto che il plasmoide è formato appunto da plasma e da un campo magnetico abbiamo anche i cosiddetti ufo-plasmoidi ovvero degli oggetti volanti oggetti non identificati che vengono descritti come figure amorfe non ben definite e che sembrano cambiare di volta in volta i plasmoidi in effetti potrebbero spiegare alcuni fenomeni quali i fulmini globulari e le bolle magnetiche nella magnetosfera questo spiegherebbe quindi il ripetersi di avvistamenti nei pressi dei vulcani e in concomitanza con le eruzioni ma non tutti sono d'accordo esiste infine comunque anche un'altra ipotesi che viene dibattuta dagli ufologi dai ricercatori ovvero quella che vede gli alieni attingere energia dalle eruzioni vulcaniche che avvengono sul nostro pianeta rimane il fatto comunque che nessuna delle teorie delle quali vi ho parlato poc'anzi è stata ancora del tutto dimostrata e probabilmente forse non riusciremo o comunque non riusciremo a dimostrarla in tempi relativamente brevi quindi il giudizio rimane ancora una volta in sospeso e lo scenario rimane aperto a tutte le possibili soluzioni e con questo io chiudo questo diciassettesimo incontro di frontiere proibite con oltre frontiera e vi do appuntamento per il prossimo incontro oltre frontiera 18 nel quale vi preavviso già parleremo di argomenti davvero davvero molto molto intriganti e davvero poco conosciuti vi invito ovviamente ancora una volta ad iscrivervi al canale e lasciare i vostri commenti i vostri like se vi fa piacere io vi saluto vi ringrazio per avermi fatto compagnia saluto e ringrazio tutti coloro che ci hanno scritto e coloro che ci stanno scrivendo in questo momento un saluto dal giornale dei misteri appuntamento alla settimana prossima grazie a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti